Da 2008 abbiamo avuto l'opportunità di cimentarci, di approcciare l'idea dei prodotti compostabili, quindi biopolimeri, perché il mercato iniziava, soprattutto attraverso Unicop, a farceli una richiesta. Da lì è iniziata tutta la nostra storia. I risultati sono assolutamente soddisfacenti, Unicop e Firenze ha continuato con la distribuzione di questi prodotti, aumentando sempre di più il valore dei prodotti stessi, andando a scegliere dei prodotti con oltre il 50% di prodotti rinnovabili all'interno del biopolimero.